I dipendenti della sua impresa edile risultavano distaccati temporaneamente a un'azienda di diritto romino. In realtà, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, erano tutti stabilmente residenti in Italia e in servizio nel paese e il passaggio era solo un espediente per pagare meno tasse. Al termine degli accertamenti, le fiamme gialle di Olgiato e Comasco stanno sequestrando beni per 2.700.000 euro alla società e all'amministratore, una somma pari alla cifra che non sarebbe stata versata all'erario. Tra i lavoratori, qualcuno in Italia percepiva anche il reddito di cittadinanza perché risultava disoccupato. Le indagini sono iniziate dopo un controllo ordinato dalla Finanza in un cantiere edile di Beregazzo con Figliaro. Le fiamme gialle hanno deciso di approfondire la correttezza di alcuni rapporti di lavoro dipendente. La società controllata, con sede legale a Sesto San Giovanni nel Milanese, dal 2015 al 2021, aveva 75 dipendenti temporaneamente distaccati da un'azienda di diritto romino. La normativa in vigore prevede questa possibilità tra paesi europei, mantenendo tasse e previdenza sociale nello stato dell'azienda. I finanzieri hanno accertato che i lavoratori, dichiarati come distaccati in Romania, vivevano stabilmente da anni con le famiglie in Italia. Alcuni, pur percependo regolarmente lo stipendio, erano riusciti a ottenere il reddito di cittadinanza, dichiarando il lavoro esclusivamente alle autorità romene. Per l'accusa, dunque, la scelta di impiegare personale, formalmente inquadrato all'estero, era finalizzata solo all'evasione contributiva e previdenziale. L'azienda romena è risultata del tutto inesistente e gestita dallo stesso indagato da un ufficio nella sua abitazione. Al termine dell'indagine, coordinata dalla Procura di Monza, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo alla società italiana e al suo rappresentante legale di oltre 2 milioni e 700 mila euro, pari al danno che avrebbero causato alle casse dello Stato. Sono già stati sequestrati denaro contante per circa 830 mila euro e un'abitazione a Sesto San Giovanni per un valore di oltre 600 mila euro. E l'attività procede.